Eccoci l'entrata in campo, la Virtus Castelfrentano, Virtus Lanciano, categoria giovanissimi, in questo torneo il Monello. Adesso c'è il direttore di gara che stanno facendo la scelta, palla e metà campo, ecco ci rivede Enrico, Federico, tutti. Ecco, si salutano le rispettive panchine. Ecco, andate. Andate. Sto cazzo di brutto diventa un cazzo. Vinciamo in questo cazzo di cazzo e vinciamo! No! Uno, due, tre. Lanciare! Un saluto! 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 Grazie.